Callisto è il prodotto base del mais per la post-emergenza, specifico per il controllo delle dicotiledoni. Questo erbicida si caratterizza per flessibilità d'impiego, ampia finestra di applicazione e perfetta miscibilità con i principali erbicidi di post-emergenza. Grazie alla sua formulazione, Callisto aumenta la velocità d'azione degli erbicidi con cui è miscelato. Va impiegato in miscela con Casper in caso di forte presenza di infestanti ruderali come a Califa, Topinambur e Circium. Casper ha un ampio spettro d'azione che comprende numerose infestanti a foglia larga, sia annuali sia perenni, ed è perfettamente selettivo sul mais. Questi prodotti si applicano su mais dallo stadio di 3 a 8 foglie, alla dose di 0,5-0,7 litri ettaro per Callisto e di 350 grammi ettaro per Casper. Callisto e Casper, gli specialisti nel controllo delle dicotiledoni.